Arriviamo alla parte 3 Dai, siamo nei tempi, va bene Parte 3, parte conclusiva Ma dolce sin fundo, come si usa dire Cioè, vediamo Le principali Piattaforme social Come vi ho detto, avrei voluto farle tutte Almeno le più grandi, però Già vedere le due principali Ci fa capire, anche perché, ripeto Quando le leggete, se poi Per conto vostro le andate a leggere Vedrete che sono più o meno identiche Cioè, cambiano Cambiano un po' le parole Ma l'approccio è abbastanza standard Perché questo è un po' il modello Che si è affermato appunto in questi In questi 15-20 anni Di internet Cominciamo dalla policy di Facebook La policy di Facebook Cosa ci dice? Ha un paragrafo 2 Nella pagina che vedete lì Facebook.com slash terms Cioè, le regole di Facebook L'utente Non può usare I prodotti Cioè, non può usare La piattaforma Facebook Loro chiamano il nostro prodotto Per adottare condotte O condividere contenuti Poi c'è un elenco E tra questo elenco c'è In questo elenco c'è Contenuti contrari O in violazione Dei diritti di altri utenti Compresi i loro diritti Proprietà intellettuali Quindi già ci ha detto Una cosa molto importante Io su Facebook Non posso caricare foto Che non siano mie Punto Cioè, già il fatto Che io carico Un'immagine O un video Che ha fatto un altro E a cui io non ho chiesto il permesso Quella roba lì È già vietata Dai termini d'uso Quindi non siamo neanche A un livello di legge Cioè, questo Allora, questi che vi sto leggendo Sono i termini d'uso Quindi sono uno strato Di norme inferiore Cioè, abbiamo la legge sopra E sotto poi ci sono Queste regole interne Alla piattaforma, no? È un po' come se voi Quando vi iscrivete ad un'associazione Iscrivete ad un'associazione E' un'associazione ovviamente Non so Associazione sportiva X, Y Ha delle norme interne Per cui Non puoi Che ne so Se vuoi giocare a tennis Però poi non puoi Prenotare il campo Per più di due ore Perché devi dare spazio A tutti gli altri di giocare Allora, ok C'è una norma interna Che devi rispettare Quindi non c'entra nulla Con la legge È una norma Solo rivolta ai soci Di quella associazione sportiva Qui uguale Qua ci sono C'è uno stato In norme in più Che sono i termini d'uso Che ci dicono Che comunque Anche se uno Non conosce Il diritto d'autore Però lo c'è scritto lì Cioè, c'è scritto Che non puoi caricare Contenuti che siano In violazione Dei diritti di altri Compresi Quelli di proprietà Intellettuale Quindi questo è già Il punto di partenza Il punto 3 ci dice che Quando carichi qualcosa Devi dare Delle autorizzazioni A Facebook Cioè L'utente che carica Una foto Un video Su Facebook Sta dando A Facebook Queste autorizzazioni Cioè A Facebook Intendo Alla Facebook Corp Non so Alla Facebook Inc Cioè Alla società Facebook Che sta appunto In California L'utente dice Deve concedere Determinate autorizzazioni Per consentire a Facebook Di fornire i propri servizi Bevo Autorizzazioni All'uso dei contenuti creativi Condivisi dall'utente Quindi vedete che siamo Nel campo Squisitamente Del diritto Alcuni contenuti Condivisi Caricati dall'utente Quali foto Video Potrebbero essere Protetti Da legge Sovrappetente Intellettuale Mi piace Questo Condizionale Noi non lo sappiamo Potrebbero essere Protetti Come dire Lo devi sapere tu Se quello che stai caricando È coperto O non coperto E siamo sempre Nell'ottica Della non responsabilità Che dicevano prima Cioè Facebook Se ci pensate Non è che può Star lì E distinguere Di volta in volta Se voi state caricando Una terzina Dei promessi Una terzina di Dante Della Divina Commedia Oppure state prendendo Il testo Di un brano musicale Che è ancora tutelato Non lo può sapere Non è il suo lavoro Non puoi neanche Chiederlo a Facebook Di fare sta cosa E quindi loro dicono Che siano protetti Non lo so Noi ti stiamo dicendo Che quando le carichi Ci devi dare queste autorizzazioni L'utente Questa è interessante Questa precisazione Questa precisazione È stata inserita Negli ultimi anni Nei termini d'uso Prima non c'era Perché Era girata Una bufala Possiamo chiamarla Per cui Facebook Si prende I tuoi diritti D'autore Ah se metti le foto Su Facebook E poi Facebook Ti ha rubato I diritti d'autore C'era sta boiata Che girava da tempo Io l'ho spiegato Tempo fa In un articolo Come funzionava La questione Poi Visto il clamore Che in tutto il mondo Aveva destato Questa bufala Facebook ha detto No Chiariamo la questione E ha aggiunto Questo paragrafo L'utente È titolare Dei diritti Di proprietà Intellettuale Dei contenuti Che crea E che condivide Su Facebook Quindi Siete comunque voi Rimanete voi Titorali Del diritto D'autore Della proprietà Intellettuale Nessun elemento Delle presenti condizioni Di questi termini D'uso Priva l'utente Dei diritti Di cui è titolare In relazione Ai propri contenuti Quindi non è vero Che Facebook Ti toglie i diritti L'utente è sempre libero Di condividere I propri contenuti Con chiunque Dovunque Voi rimanete titolari Del diritto D'autore Però Nonostante Rimaniate titolari Comunque Concedete a Facebook Una licenza Molto Molto Ampia Che è un'altra cosa Però dal Cedergli il diritto Sembra una questione Di lana caprina Ma invece è sostanziale Se cedo il diritto Vuol dire che io lo perdo E lui diventa titolare Se invece gli do Una licenza Non esclusiva Anche se molto ampia Rimango io Quello che ha L'interruttore In mano Mi seguite? Quindi Tuttavia Dice l'utente Deve concedere a Facebook Per la fornitura Dei propri servizi Alcune autorizzazioni Di legge Note come licenze Per l'uso Dei contenuti In questione Nello specifico Quando l'utente Condivide pubblica O carica Un contenuto Protetto Da diritti Proprietante Elettuale Concede Una licenza Non esclusiva Eccolo qua Trasferibile Sublicenziabile Non soggetta a royalty E valida In tutto il mondo Per la trasmissione L'uso La distribuzione La modifica L'esecuzione La copia La pubblica Esecuzione La visualizzazione La traduzione La creazione Di opere derivate Sull'uso Questo sì Questo è vero Ma è non esclusiva Vuol dire che Non è che Le ha prese solo lui Queste autorizzazioni Voi le potete dare Anche ad altri Però finché Il contenuto È su Facebook Lui ha tutta Questa libertà Chiaro? Lui Facebook Lui Facebook Inc La società Che sta dietro a Facebook Ciò implica Ad esempio Che se l'utente Condivide una foto Su Facebook Autorizza Facebook A memorizzarla A copiarla A condividere Con altri soggetti Ma anche a venderla Cioè Se siete Che ne so All'interno della metropolitana Di New York E succede un attentato E voi siete gli unici Che hanno fatto la foto Se quella foto Lì la mettete su Facebook Non vi potete lamentare Se poi Facebook La vende alla CNN Ok? Perché lo può fare Gliel'avete autorizzato voi Attraverso l'accettazione Dei termini d'uso Ok? La presente licenza Cessa di esistere Una volta eliminati I contenuti Dell'utente Dai sistemi di Facebook Ecco qua Cioè L'unico modo Che io ho per Io utente Ho per Interrompere questa licenza È Togliere il contenuto Affinché il contenuto È sulla piattaforma Facebook può fare Quelle cose Che ci ha descritto prima Che ci piaccia o meno Questo è il gioco Cioè Il servizio è gratis Quindi i service provider Ci danno queste piattaforme Fichissime Super divertenti Performanti Quello che volete In cambio Cosa gli diamo? Gli diamo l'uso Dei nostri contenuti Uno E due Gli diamo La possibilità Di profilarci Quindi Da un lato Il piano copia E dall'altro Il piano privacy Se non ci sta bene Dobbiamo toglierci Cancellarci Delle piattaforme Oppure Non caricare nulla Dei nostri dati Delle nostre Opere creative La stessa cosa Se ci fate caso La fa Quasi identica YouTube Ovviamente Con un giro Di parole diverse Vediamo C'è una domanda Quando una cosa è gratis La merce sei tu Sì Grande Grande Proverbio Sempre vero Allora Dalla copyright policy Di YouTube Ci dice Che si emerge Questa spiegazione Che come vedete Più o meno Vedrete che i concetti Sono gli stessi Non hai l'autorizzazione A pubblicare Sul servizio Contenuti Che non rispettano Il presente contratto O la legge Cioè quindi anche qua No Quando diciamo Io ho caricato un video D'edit Fiba Su YouTube È bravo Cioè Però non si può Ma non è che non si può Per il diritto d'autore Non si può perché C'è scritto anche qua Cioè Entrambe le cose Quindi Ad esempio I contenuti pubblicati Non devono includere Proprietà intellettuali Di terze parti A meno che Eccola qua Tu non disponga Dell'autorizzazione Della terza parte O di un altro tipo Di autorizzazione legale Cioè può essere Che magari tu sei Il manager D'edit Fiba E Vabbè sto usando Un esempio Un po' datato Magari C'è gente che non sa Nemmeno chi sono Sei il manager Di Achille Lauro E quindi lui Ti ha detto Che puoi E quindi hai L'autorizzazione A metterlo lì E YouTube Non lo può sapere Ecco perché Non può fare altro Che lasciare Questa vaghezza Nel suo termine d'uso Perché dice Ok Io ti dico Che non puoi Violare La proprietà intellettuale Di terze parti Ma se invece Se vuoi caricare Qualcosa di terzi Sappi che devi avere Le autorizzazioni Io te l'ho detto Uomo avvisato Mezzo salvato La responsabilità legale Dei contenuti Che pubbliche sul servizio Ricade su di te Più chiaro di così Potremmo utilizzare Sistemi automatizzati Per analizzare contenuti Rilevare la violazione E comportamenti leciti Questo potremmo Lo cancellerei volentieri Perché tanto è palese Lo sanno tutti Il sistema di YouTube Si chiama Di Google Si chiama Content ID È fichissimo È uno Ovviamente più avanzati Un algoritmo Molto molto performante Per cui Se carichi una traccia audio Una traccia audio Tutelata da delito d'autore È praticamente impossibile Che non te la becchino Che non te la becchino Prima ancora Ancora prima di finire L'upload Cioè la barra Non è ancora finito Non è ancora finito Di crescere E c'è già comparsa Il claim Il disclaimer Che ti dice Attenzione Ho rilevato Un brano musicale coperto Finisco E poi guardo le domande Ecco Stesso discorso Anche qua Questi sono i diritti Le autorizzazioni Che tu concedi A YouTube Quando carichi un video Tutti i diritti Proprietà intellettuali Sui contenuti Sono tuoi Vedete che è lo stesso procedimento È lo stesso Stesso meccanismo di Facebook Ciò che ti appartiene Resta di tua proprietà Quindi Lo sottolinea anche YouTube Tuttavia Richiediamo comunque Che tu concedi Determinati diritti A YouTube E ad altri utenti Al servizio Stesso discorso Quindi è un copia Sembra un copia in colla Nel momento in cui Fornisci contenuti Al servizio Concedi a YouTube Una licenza globale Guardate che è identica In questa parte Concede a YouTube Una licenza globale Non esclusiva Esente da royalty Trasferibile Cedibile in licenza Per l'utilizzo Di tali contenuti Ai fini Del funzionamento La promozione E del miglioramento Del servizio Incluso Vedete la riproduzione La distribuzione La modifica La pubblicazione E esecuzione Degli stessi Ecco La differenza Che ha YouTube Rispetto A Facebook È che voi Concedete questa licenza Anche agli altri utenti Di YouTube Questo è interessante Perché? Perché YouTube Ha una serie Di servizi Interni Per cui Gli utenti Possono prendere Maneggiare Miscelare Video Su YouTube Fare dei mashup Questa autorizzazione La concedete Anche agli altri utenti Di YouTube Ma comunque Nel rispetto Dei termini d'uso Cioè Quindi non è che Gli altri utenti Su YouTube Loro possono scaricare Così Liberamente A mani basse Tutte le Le robe Che sono su di solo Perché loro sono Alla loro volta Utenti di YouTube Si sono registrati Possono utilizzare Alcuni servizi Di YouTube E quindi per farlo Devono avere queste licenze E voi gli state concedendo Ok? Ho visto Le domande Finisco ormai Perché siamo arrivati alla fine Quindi era per farvi vedere Ma vi assicuro Se noi guardassimo Quelle di Instagram Che sono comunque fatte Dallo stesso ufficio legale Di Scusate Di Facebook O quelle di Twitter O quelle di Slashare Di Snapchat Sono tutti Sullo stesso concetto Sono ormai Delle formule standard Ok? Il meccanismo è quello La responsabilità Rimane a te utente Cioè Il concetto è Uno Io ti avviso Che I contenuti In violazione Di diritto autore Non li puoi caricare Due Ti sto dicendo Che la responsabilità Eventualmente Ricade su di te Tre Nel momento in cui carichi Mi devi dare delle licenze A me A me soggetto Al me service provider Nel momento in cui tu Violi queste regole Io Service provider Applico le sanzioni Che I miei termini di uso Hanno previsto Nel caso di YouTube Non l'ho messo qua Nelle slide Perché non ci sta Vi possono fare Un richiamo Due volte E alla terza Vi spattano fuori Cioè quindi Avete Sostanzialmente Due cartellini gialli Metafora calcistica Due cartellini gialli Il terzo È già un cartellino rosso Quindi se Caricando Continuate a caricare Su YouTube Brani musicali O video Di cui non avete diritti Ad un certo punto Prima ti avvisano La seconda volta Ti avvisano ancora La terza Ti possono chiudere l'account Anche questo È scritto chiaramente Nei termini d'uso Non l'ho messo qua Perché Sennò diventava davvero Troppo lunga Però Cliccando sul link Potete andare a leggere La durata della licenza È la stessa cosa Quando La licenza dura Finché voi lasciate Il contenuto Su YouTube Lo stesso meccanismo Identico di Facebook Interessante È la pagina Questo è il centro Copyright di YouTube È una pagina in cui YouTube vi spiega In modo molto Molto semplice Come funziona Il diritto d'autore Secondo la loro visione Sono le Guarda Perfetto Adesso Ci dedichiamo un po' Un po' di minuti A rispondere alle domande Che si sono accumulate Però io intanto Ho finito Vi ringrazio Confido che Tutti voi Vogliate poi seguirmi Sugli account social Anzi Fatelo adesso Perché non dopo Vi dimenticate E che Vogliate poi Rimanere in contatto Con le mie attività Anche Successivamente E niente Nel senso che Queste slide Sono a loro volta Sotto licenza Gratic Commons Poi in un altro seminario Vi spiegherò Cosa vuol dire E grazie Grazie anche ad Apogeo Per aver ospitato Questa Questa bella iniziativa Di formazione Di divulgazione Quindi